Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, visto che ci avviciniamo alle feste e a Natale, voglio fare un video dove vi consiglio 5 giochi da comprare, da acquistare per Natale per tutti i tipi, quindi giochi per la famiglia, giochi magari per i più piccoli, giochi più hardcore e titoli del genere. Ve lo dico subito, ve li metto in ordine sparsa, quindi non è che il primo è il migliore, il quinto è il peggiore o viceversa. Vi faccio vedere soltanto i 5 giochi da regalarvi per Natale, che secondo me faranno veramente la felicità a tavola e faranno divertire tutti. Ve ne do uno per tipo di giocatori, da un titolo molto semplice per le famiglie a uno più hardcore. Come gioco per le famiglie e soprattutto per i più piccoli, ma detto fra me e voi neanche, perché questo è più gioco da quarantenni, perché lo aspettavamo dai tempi della Milton Bradley, brivido nella nuova edizione a cura di grandi giochi, di cui ho già portato il video sul canale, perché è spettacolo. È un richiamo agli anni 80, primi anni 90, in un gioco che ha fatto la storia di noi, di quando eravamo bambini, noi fanatici dei giochi da tavolo, ma questo soprattutto è un gioco divertente anche per quelli più grandi, perché, tra molte virgolette, ma nemmeno poi tanto, se vi è piaciuto l'isola di fuoco, che tra l'altro anche quello potrebbe essere un altro consiglio, vi piacerà anche questo, perché le meccaniche sono le stesse. C'è praticamente una pallina che nel momento giusto, quando finite su alcuni tipi di caselle, viene lanciato un dado e questa pallina cade e non si sa dove va a finire, perché se vi va a colpire, tornerete indietro nel tracciato e in questo gioco vince chi per primo arriva all'uscita. Quindi è un gioco veramente interessante, secondo me, per i più piccoli ed è un gioco bello, divertente, fatto bene, poi, come avete visto nel video della recensione, il Cosa ne Penso, è interamente riprodotto in 3D, quindi la scatola e il castello, la base dove andrete a giocare e a muovere i vostri esploratori, i vostri personaggi. Però ci sono le quattro incrociate che vanno a comporre il castello, più la torre, più le scale in plastica, più l'alabarda del cavaliere che cade, quindi anche bellino da vedere scenicamente, perché, come dico sempre, un gioco, ad esempio, per me il capolavoro di tutti i tempi, che è HeroQuest, è bello proprio perché ti dà quel 3D con i mobili e tutto quanto, e qui va anche oltre perché ci mette anche le mura, insomma vi crea un vero e proprio castello per fare una partita che magari dura anche una mezz'oretta e non più di tanto, con i vostri figli, e secondo me è veramente un titolo perfetto, lo trovate tutti, Toy Center, ad esempio noi a Livorno ce n'abbiamo uno grande, costa anche su Amazon a volerla ordinare, quindi non vi lascio link, perché questi giochi qui si ordinano anche da City e da Amazon, lo trovate anche a 30 euro a volte in offerta, se volete fare un bel regalo al bimbo e fare una partita con i vostri figli, Brivido, secondo me è una delle scelte migliori. Come secondo gioco, per i vostri figli, ma anche barra slash per le famiglie, che secondo me è perfetto, qui davanti Walkie Race, in questa edizione dell'Acmon, al solito andate a vedere perché questi prodotti si trovano tranquillamente su Amazon, che è un gioco di gare molto divertente, con un regolamento, l'ho già portato sul canale, con un regolamento molto fresco e immediato, si fa semplicemente un tracciato, con i vari segnalini, i vari pezzi della mappa si fa un tracciato, c'è un'area di servizio che è il pit stop, e poi la seconda parte, le tracciate della gara fino alla linea d'arrivo. Ed è bellino perché è il classico cartone animato che ci ricordiamo dove si cercava di sabotare un po', c'era magari la famiglia dei mafiosi, c'era la famiglia degli Adams, c'erano i due cavernicoli con le clavi dentro la macchinina, cioè era veramente interessante, o c'era il belloccio della situazione. Ed è veramente bello perché ci sono tutte quante le macchinine in plastica, riprodotte in 3D, ragazzi da paura, in plastica, nemmeno l'avessero fatte in resina, sono belline da morire, e quindi è anche bello vedere che fate il tracciato e muovete queste macchinine perché sembra un po' di ritornare ai tempi delle corse con le Ferrari, con le macchine da Formula 1 o le Hot Wheels, ma soprattutto è bello perché questo secondo me è un gioco che potete far giocare come regolamento già leggermente, no più complesso, c'ha qualche regolina in più, però ci potete far giocare il vostro figlio o giocarci anche voi direttamente in famiglia perché questo Walkie Race, fra tutti i giochi provati finora, e c'è anche quel sabotaggio, quella competizione comunque leggera che non dà mai fastidio, la competizione come piace a me, quella divertente che ti fa fare una risata più che arrabbiarti o darti il nervoso, ed è veramente veramente interessante. Dateci un occhio perché giochi per le famiglie, questo per me fra tutti quelli che ho, è uno dei migliori. Come bel titolo, per giocatori già un pochino più navigati e che amano veramente i giochi cooperativi, un altro titolone assurdo per divertirsi e perderci veramente la testa, non in versione Legacy, vedete qui davanti Pandemic, una nuova sfida, che è il titolo base che poi ha dato praticamente Pandemic da gioco così, che dovete debellare un virus che ci sta anche bene in questo periodo oscuro che stiamo vivendo, ha creato una specie di sandbox, infatti sul canale vi ho portato anche la variante World of Warcraft e ne stanno uscendo molte molte altre in un gioco che vi vede chiamate a vestire panni di scienziati o comunque dover collaborare anche con l'esercito militare e cose del genere, avrete tutta la mappa del mondo con vari focolai che si vanno ad accendere e voi dovrete trovare una cura, a differenza di Plug Ink, se vi ricordate il videogioco che ci hanno fatto anche il gioco da tavolo, dove invece ti dovevi creare il virus per distruggere il mondo. Qui dovete trovare una cura collaborando fra tutti voi per riuscire a debellare questo virus che si va sempre a mutare e a diventare tristemente sempre più forte. Quindi per tutti quei giocatori un po' più navigati, diciamo un pochino più, ma no esperti, però sicuramente non tanto titolo da famiglia o da ragazzini anche per il tema trattato, è molto bello come gioco perché vi mette non in competizione ma vi mette insieme e vi troverete a scelverlarvi, a trovare la giusta soluzione perché magari è esploso un nuovo focolaio da qualche parte del mondo e dovrete correre per andare a spengerlo ma magari in quel momento o il vaccino non è pronto o non avete abbastanza anche supporto per andare in quella nuova nazione in più che si sta aggiungendo appunto al virus ai focolai. Quindi per tutti i giocatori un pochino più navigati e di cooperativa, perfetto. Per tutti gli amanti dei giochi in solitario, e io essendo iscritto in diversi gruppi su Facebook, vedo che ce ne sono sempre di più di ragazzi anche fra gli amici miei che chiedono ma questo gioco si può fare in solitaria perché magari non hanno il gruppo, non hanno gli amici o semplicemente si divertono di più a giocare da soli, ci sono, a volte capita anche a me. Sherlock Holmes, consulente investigativo in questa ultima edizione che è gli irregolari di Baker Street che vi ricordo, tutte quelle che escono non sono espansioni ma sono proprio stand alone quindi potete partire da questo senza aver giocato magari Jack the Ripper e tutti gli altri aperta parentesi, consiglio spensierato, giocateli dal primo all'ultimo perché magari qui trovate un caso non vi servono i casi vecchi per risolverli, però magari ah ma ti ricordi quella volta quel nesso che c'era? però lo potete giocare tranquillamente, chiusa parentesi. E questo è un gioco perfetto per chi vuole giocare in solitario perché lo potete giocare anche di gruppo però non ha regole, cioè devi leggere casi, devi parlare con la gente nel libretto, devi capire cosa succede sì, lo può anche giocare in cooperativa, però è più bellino mettersi lì, calarsi nei panni magari di Sherlock Holmes per provare a risolvere un problema dove magari vi fermate e non essendoci tempo in questo gioco magari il caso lo potete risolvere al 100% anche dopo una settimana reale che giocate perché magari volete confrontare tutte le prove. Quindi per i fanatici di Sherlock Holmes e gli amanti dell'investigativa per me questo è il meglio in assoluto, mia moglie l'ha spolverata e l'ha distrutta tutti quanti perché è veramente bello, interessante e vi accende la mente ed è il titolo perfetto, perfetto per i giocatori in solitario. E per concludere, il titolo per me, hardcore, per eccellenza e non vi ho fatto vedere Deep Madness perché non si trova, non esiste in vendita, era solo un Kickstarter Nemesis, edizione italiana a cura di Cranio Creations che ancora una volta ringrazio per avermi offerto la copia base del gioco e ora ci sono anche tutte quante le espansioni, quindi tutto il materiale del Kickstarter compreso lo Space Cat potete avere assolutamente tutto e recentemente Cranio Creations l'ha ristampato ancora quindi si trova ancora da acquistare e soprattutto, non vi metto al solito link lo trovate direttamente anche su Amazon in versioni italianizzate e tradotta al 100% quindi nessun manuale PDF da scaricare e cose del genere e Nemesis per me ragazzi, per tutti i giocatori hardcore per me veramente non sto scherzando se lo avessero ambientato sull'annostromo di Alien ma non sarebbe cambiato niente sarebbe stato forse più bello perché io adoro Alien, però The Alien siete a bordo di questa nave, la Nemesis che con le espansioni poi potete anche giocare su un'altra navetta di soccorcio che arriva dopo la chiamata, dopo il distress call ma è bellissimo perché siete a bordo di questa nave vi risvegliate dal sonno criogenico, dalla criostasi perché qualcosa è andato storto i computer della nave, gli allarmi si sono accesi hanno richiamato appunto il risveglio immediato infatti sarete anche un po' colpiti da nella loro e tutto quanto, da il classico sonno magari che è durato mesi quindi il corpo si deve anche un po' riprendere e la nave è invasa da una razza aliena che poi con tutte le espansioni le razze alieni diventano tre perché non sono più soltanto gli alieni normali, l'intruder ma saranno dopo anche i Carnomorph e i Void Seeder che è una cosa spettacolare quindi voi andate a vivere un film laddove a bordo ognuno di voi avrà due missioni una privata e un'altra pubblica che quella pubblica è cercare di salvare la nave per portare tutti quanti alla salvezza quella invece privata vi potrebbe dire no, te devi mettere in autodistruzione la Nemesis montare su una scialuppa di salvataggio e salvarti quindi chi vince il gioco su Nemesis vince il gioco che riesce a fare la propria missione ed è molto interessante perché alcuni giocatori saranno traditori e faranno il possibile per tradirvi e è ricco di miniature di una qualità disumana la regina è stupenda è fatto veramente 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 molto bene ed è un gioco per tutti gli amanti di titoli un pochino più navigati e con un po' più di regole che secondo me vi farà impazzire è un attimo mettere Alien di sottofondo in televisione o mettere anche delle musiche e dei film mentre fate una partita con le luci un po' abbassate per me in Nemesis ragazzi un gioco più bello di questo difficilmente riusciranno a farlo in conclusione questi sono i 5 consigli per questo Natale vi ho dato dei giochi che si trovano tranquillamente non ci sono giochi fuori edizione ora magari Walkie Race è uscito già da un po' però io l'ho trovato l'ho preso direttamente da Amazon quindi penso che si trovi e vi ho dato titoli che si trovano tranquillamente sono secondo me fra i migliori titoli da mettere anche a tavola poi ci potete aggiungere anche altra roba perché me ne dovevo mettere 50 di giochi da consigliarvi per Natale sarebbe venuto un video troppo lungo però ad esempio anche Harry Potter le battaglie di Hogwarts che ho qui dietro come gioco di carte o se no anche Villainous molto carino o qui The Queen's Gambit per la serie di Netflix degli Scacchi che è un altro gioco molto interessante ovvio avrei potuto dire anche Hotel per giocarlo con i bambini e con le famiglie però questi secondo me sono i giochi azzeccati come Dixit che sono sicuro dove metterete e metterete farete divertire perché se a un pranzo di Natale portate come vi ho detto poc'anzi Walkie Race fate divertire se a un bambino li portate Brivido lo farete divertire come un pazzo e a un tavolo di nerd che non vedono l'ora di un regolamento più complesso e un gioco più cult li portate un Nemesis farete divertire tutti quindi spero che questi consigli vi siano serviti e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi